Alessandria ha voluto intitolare a Nicola Basile, indimenticabile sindaco negli anni difficili del dopoguerra, il nuovo centro di ricerche economiche, culturali e sociali. Lo ha presentato il presidente onorevole Felice Borgoglio, annunciando le iniziative con cui i promotori intendono assicurare al centro un ruolo primario nella vita culturale della città piemontese. Alla figlia di Basile, Mirka, che fa la parte del consiglio direttivo, è stata consegnata la prima tessera del sodalizio come simbolo di continuità nella tradizione di amore per Alessandria. Il primo appollatissimo dibattito del centro Basile sul tema crisi economica e occupazione, aperto dal presidente della provincia Franco Provera, ha visto la partecipazione di Franco Reviglio, ex ministro delle finanze, il quale ha sottolineato la necessità di affrontare con una più salda base produttiva i grandi problemi di oggi e di domani. Tra gli altri intervenuti, oltre all'onorevole Borgoglio, anche Giorgio Benvenuto, segretario generale della UIL e l'assessore regionale Claudio Simonelli. Grazie.